ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi nuovo video queste sono le mani di mia mamma dove ho fatto una copertura soltanto su tre tip scusate soltanto su tre diti ho fatto la ricostruzione con tip e adesso sto applicando questo bellissimo colore red carpet di passione unghie bastava anche una sola passata però io ne ho dato due perché mi piace molto coprente i colori e infine ho utilizzato invece che il lucido ultra gloss che uso di solito di passione unghie ho utilizzato questo top coat opaco perché lei piacciono tanto le unghie opache e ho utilizzato questo qui dell'undead top coat opaco dell'undead infine dopo andrò a utilizzare l'olio cuticole sempre dei passione unghie e basta io comunque spero che il video vi piacerà se sarà così metterete pollice in su se sotto il video mi volete mi commentate e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao